Siamo a Tollon, nelle Memise, sul lago di Ginevra, Orlac, Le Mande, stasera cena a base di pizza, questa vacanza siamo un po' disperati. Questa è la pizza classica, quattro formaggi, che è veramente bella, formaggiosa, sembra addirittura molto meglio che le nostre striminzite che ci danno in Italia. Poi c'è la pizza dell'alice, che è una margherita con le olive, però vedo che nel frattempo le olive non ci sono più, immagino l'avrà mangiata e questo è il pezzo forte, la pizza con il reblochon, che è un tipico formaggio di qui, oltre al reblochon c'è anche l'araclette, c'è la cipolla, la mozzarella, i pezzettini di carne, ora l'assaggio. E' veramente buona, è alta come una pizza americana, però è soffice, gustosa, voi arti francesi, insomma, sorprendente questa pizza tolone, le mie mise.